No, non mi ha scoppato, non mi ha scoppato, ero super convinto, ho già stato un attimo passato per il punto mare, insomma, mi ha venuto in mente la bella notare che ho fatto sia nel posto di gara che anche lì davanti, proprio su un mare per via, quindi, vabbè, il mare è stupendo, lo sentiamo tutti, però in Sardegna, oltre al mare, diciamo, ci sono stato tante volte, è un'area cognitiva, mi sento a casa, è come diceva Stefano, volevamo provare a portare una gara a livello internazionale, importante, quindi ci sarà tra poche settimane, e sono contento di questo, è una gara, insomma, per chi non lo sapesse, è una gara veramente più importante, perché noi facciamo, di solito, una preparazione ad un evento, insomma, mondiale, europeo, quindi ci sono praticamente tutti più forti, e sarà bello portarli qua, ma è anche, comunque, in questo periodo, tanti mi hanno chiesto dove ci hanno fatto la gara in Italia, ma perché proprio lì, e com'era Sardegna, quindi, cioè, ho messo molta attenzione, molta curiosità, e questa, insomma, secondo me, è un'occasione per far scoprire, insomma, anche a chi non le conoscesse, questi spiagni, questi bossi, quindi, io sono contento di essere qua, già questo weekend, domani gareggeremo, insieme, insomma, tutti insieme, l'anno scorso, che questo è il bello di questa gara, di questa manifestazione, quindi, sono contento di essere qua. Grazie.